ciao a tutti amici benvenuti in un nuovo video video un po special non previsto c'è un cretino che balla là dietro praticamente si sono con santo subito però lui si mette vergogna sia di farsi vedere che di parlare quindi è un uomo inutile diciamoci sì vabbè mi sta facendo brutti gesti in questo momento fermo allora vorremmo scartare gli uovi insieme a voi quindi noi vi scarta di c'è chi scarta per tra l'altro noi scartiamo voi ok assistente prego come docile lui vabbè ecco il primo uovo che scarteremo insieme ma arriverà un uovo in faccia io me lo sento una volta di questo già ho la faccia d'uovo no io non ce la faccio perché c'è un deficiente che mi balla del passaggio ok stavo per prenderla la videocamera giusto per me ne compri un'altra se non è nulla che fai così va bene salve ok questo è il primo uovo volevamo vedere insieme che cosa ci esce faccio faccio effetto ma io mi farò malissimo un attimo ce la farò no è impossibile cioè che è questo no guardate l'intelligenza è già aperto è possibile guarda che è già rotto ok è andato vediamo che cosa c'è marone questo è il cioccolato ma non te la do no non te la do ah ma questa non la vuole perché non gli piace perché con me ok vediamo che cosa ci esce dentro ferma cioccolata no non ce la farò mai non ce la faccio me lo vieni ad aprire per cortesia no non faccio me lo vieni ad aprire per cortesia no basta 16 h che è 16 h un video inutile che più inutile non si può ma giusto per compagnia è una cosa è ding che che mi suoni indovina che cos'è una cosa che per me sarà inutile praticamente lo sentite il timer della guzzini è bello è bello vuoto te lo do te lo regalo è praticamente il timer cioè aspetta guardate quanto è carino vediamo se suona suona esploderà questa cosa e boom no no a fa ding fa così fa così e chi lo sente vabbè basta comunque è uscito questo un attimo assistente ok secondo uomo kinder questa volta ok l'assistente che sta giocando con 30 anni non si può una fatta eccolo però eh salve come lo apri adesso questo non lo riesco ad aprire aiutatemi non ho nemmeno una cosa mi dai la penna la penna una cosa che possa grazie cose che volano non sto praticamente trafiggendo di tu ok eccolo certo cioè tanto poi andrà tutto in una carta sola quindi vediamo cosa ci esce questa non te la do a mango se mi preghi parla te la do solo se parli vabbè è inutile proprio vediamo c'è una persona è leggerissimo quindi temo temo che sia tutto qualcosa peluche peluscioso sono contenta che animale questo no non puoi capire è calimero è calimero è calimero no che cos'è questo che che è no no questo mi ucciderà oddio no no che dolore sul ginocchio però non si ruve scusatemi no questo me lo devi dare delicatamente è in front giustamente ok ce la farò apriamolo vediamo che cosa ci esce dentro potresti parlare madonna qua la cioccolata sembra buonissima guardate potresti parlare corrisamente no invece di ballare con un deficiente ok aspettate guarda no questo è bellissimo questo mi mi dispiace mi dispiace mi dispiace pure aprirlo guardate quanto è bello lo devo aprire un attimo te la farò che vuoi la cioccolata no perché non vale ok che cos'è questa cosa happy è un braccialetto con sopra scritto happy guarda è carino guarda c'è il brillantino aspettate che non so se riesce a mettermelo a fuoco si mi sta facendo ecco c'è scritto happy sopra che carino bello me lo metto me lo metto me lo metto me lo metto vedete happy happy ok adesso noi ci strafoghiamo io mi strafogo la vuoi finire di giocare come un bimbo no vabbè spero che questo video inutile al mille per mille possa avervi fatto compagnia e adesso mi strafogo la cioccolata e te non te la do amici vi rinnovo mi dovrei metterlo a pasquetta questo video quindi se dovesse avvenire che vuoi la tinta che devo dire della tinta vabbè se vi dovesse insomma se dovessi metterlo proprio domani vi do tanti tanti auguri di buona pasquetta ecco lui mi diceva vedete questa tinta adesso se sta andando un pochino perché ci ho mangiato come un maiale che bello è la tinta quella lì dell'anica mi metto il video sopra io l'avevo sottovalutata perché in realtà quella tinta con la matita sotto secondo me è ottima io l'avevo dato mi sembra un sette e mezzo sette e mezzo otto cioè sottovalutata relativamente mi piaceva tantissimo proprio quando andava via faceva un brutto effetto con la matita sotto è la fine del mondo ma sicuramente ve ne riparlerò comunque un bacio a tutti ci vediamo ciao ciao